Sì e benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo un live-mai challenge sul canale di Giulia e Anni! Lei trova alla videocamera e perciò va sul telefono, ci sono due persone, Giulia e Anna Chiara, che non vuole salutare Anna Chiara, è cattiva Anna Chiara. Giulia non fare snaffo, allora incominciamo col video, fateci qualcosa. Anna, hai mai parlato male di Giulia? Mh, forse. Hai mai detto una bugia ai tuoi genitori, Giulia? Una volta, ma una volta rara, eh? Anna, hai mai avuto un fidanzato? Sì. Hai mai detto ad una persona ti amo, Giulia? No, non è un ragazzo molto passionale. Anni, hai mai rubato qualcosa? Eh, i piccioletti della bozza, l'ha mai amata la nonna. Hai mai amato una persona più grande di te? Sì. E lo è ancora. Annie, hai mai incontrato il tuo idolo? No, però forse riuscirò a fare questa cosa. Chi è il vostro idolo? Tanti youtuber. E poi, Justin Bieber, e Anna. E io, Justin Bieber. Hai mai detto brutte parole ai tuoi genitori? No, perché io non le dico le brutte parole. Hai mai dichiarato a tua sorella in qualche circostanza? Sempre. Sempre, anche mezzo a una strada. Basta. Wow, è domani. Sono dieci domande, raga. Eh, raga, vabbè. Quanto tempo dura sto video? 1,47, 49. Allora, noi facciamo video, non mini video. Quindi Giulia lo smetti, io posso telefono per le qua. Non lo so. Giulia, ma che stia facendo il telefono? Mi la telecamera, mi va? La mia storia è bellissima. Guardate un po' che fai. I beccioli, i beccioli. Andiamo col trattore in tangenziale. Andiamo a comandare. Tieni, fai un po' di video. Devi fare un po' di video. Stai facendo. Giulia si vede tutto il telefono. Che becchia. Vedono tutto qua. Guarda, guarda. Ho ingrandito. Non c'è la sua parte, mi vuoi stare a registrare. Eh. Facciamo un vlog giù ai My Challenge. Stavo per me o per Giulia. No, sì. Il titolo di questo video sarà Giulia, aspetta fammi pensare Giulia che è il registro di Giulia. Togliti Giulia. Che stai facendo? Anna stava facendo la scema. Aspetta. C'è il cartello? Il cartello? Che mi piace il botto. Vi ho aiutato col pestone le a lui. Ma che era? Eh, vabbè. Leva di chi? Ho perso nel piede, ho perso nel piede. Dai! Sono un guaio. Ti è fatta male Giulia? Il piede! A soccorrere, soccorrere. Aiuto. È un guaio. Il piede. Allora, voi dovete sapere che prima stavamo girando un vlog. Poi lo abbiamo interrotto. No. Giulia mi ha tipo buttato il telefono. Sta crescendo. No. Come uccidere una ragazza? No, no, no. Tagliati Giulia. Tutorial di Anna De Maio. No, ti prego Anna. Io non l'ho fatta qua. Scusami. Scusami. Ciao, signora. Ciao. Ho tolto, ho tolto, ho tolto. Il video è finito. Male. Giulia vuoi dire qualcosa in proposito? Bene, lasciate tanti pollici in su e seguite su tutti i nostri social che lasciamo qui in descrizione. Ciao.